Buongiorno, siamo a Capoliveri per la nostra consueta puntata della rubrica La Lavatrice di Teleelba. Siamo in località Vaccarelle, siamo venuti per seguire una segnalazione che ci è arrivata direttamente in redazione e con soddisfazione, perché no, sottolineiamo che la segnalazione è stata addirittura anticipata da un intervento, crediamo, del Comune di Capoliveri per ripulire una situazione incresciosa che c'era dietro questa postazione dei cassonetti di ESA. Beh, che dire, un'altra piccola medaglia che si appunta al petto della Lavatrice dopo quello che è successo a Colle Reciso dove l'amministrazione comunale di Portoferraio insieme a ESA è intervenuta bonificando diverse zone dove erano presenti delle discariche abusive e intervenendo anche in altre zone che non erano state neanche segnalate dalla nostra trasmissione. Grazie alla pubblica amministrazione quindi che ci segue con tantissima attenzione, ma purtroppo le segnalazioni non mancano e a questo punto, visto che siamo rimasti senza lavoro stamattina, andiamo a vedere qualcos'altro. Da Capoliveri a campo il passo è breve. Eravamo venuti da queste parti, siamo sulla provinciale del Monumento per tornare su una delle prime segnalazioni della Lavatrice che c'è stata, come dire, rinfrescata dai nostri lettori e telespettatori. Le frane, le frane che sono su questo tratto di strada praticamente abbandonato, abbandonato dalla provincia purtroppo che non riesce più a fare la manutenzione, ma anche altri problemi perché venendo su ci siamo fermati un attimo, abbiamo accostato e guardate cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato dell'Eternit qui sul bordo della strada e se il nostro operatore si affaccia un attimino vi faccio vedere il resto della discarica. Ancora Eternit, ancora materassi, ancora elettrodomestici buttati giù nella macchia. Credo che questo sia ancora territorio comunale di Capoliveri, però noi siamo diretti da un'altra parte. Gireremo immediatamente questa segnalazione a ESA e al Comune di Capoliveri, ma il problema per il quale siamo da queste parti è un altro. Adesso due secondi di immagini di quello che abbiamo trovato, che purtroppo non si finisce mai di trovare il peggio del peggio e poi andiamo a vedere il motivo per il quale siamo da queste parti. E siamo arrivati in un posto dove eravamo già stati. Siamo sul monumento, sulla strada provinciale che collega la Cona a Marina di Campo, una strada che non ci stancheremo mai di segnalare, è totalmente dissestata. Il fondo stradale assomiglia più a qualcosa che è molto vicino allo sterrato che non all'asfalto. Al di là di questo c'è un altro problema. Siamo a metà marzo e fra poco cominceranno ad arrivare i bus turistici che molto spesso passano anche da questa strada. E qui, come avevamo già segnalato più di un mese fa, ci sono delle frane che non solo hanno soltanto un segnale davanti di pericolo, come vedete nel nostro sfondo e nelle immagini in sovrimpressione, ma sono aumentate di intensità. Io credo che sia il caso di intervenire e di lavare alla svelta i panni sporchi in casa prima che qualcuno dica all'erba le strade sono totalmente abbandonate. A questo punto, visto che la provincia non esiste più, o comunque se esiste non è in grado di fare queste cose, andiamo a chiedere conto di quello che sta succedendo al sindaco competente per territorio, al sindaco di Campo nell'Elba, Lorenzo Lambardi. Il sindaco di Campo Lorenzo Lambardi conosce già perfettamente la situazione che siamo andati a documentare. Sindaco, è un bel problema intervenire sulle strade oggi per la situazione della provincia? Allora, sulle strade provinciali sì, il problema è enorme, enorme dal punto di vista logistico e dal punto di vista di risorse. Proprio oggi ho parlato con il dirigente del settore, l'ingegnere della Santina, proprio per capire qual è lo stato dell'arte. Lo stesso ingegnere lamenta l'impossibilità, la vera impossibilità di attivarsi per poter fare quello che è lo stretto necessario, cioè la manutenzione stradale ordinaria, taglio erba e risoluzione dei problemi legati a questi piccoli franamenti che ci sono, penso lungo la strada del monumento siano palesi. Io però non vorrei arrendermi a una risposta semplicemente negativa e legata al bilancio. Come comune di Camponell'Elba, dove risiede parte della viabilità provinciale, noi siamo anche pronti a intervenire con risorse proprie, con mezzi propri per poter risolvere il problema, perché ai nostri cittadini importa poco la competenza, importa sapere che per la Pasqua e per l'estate ci sia una viabilità decente. La seconda cosa che ci tengo a sottolineare è che già lunedì avrò un incontro col mio Presidente, col Presidente Franchi, per sollecitare quelle che sono le azioni propedeutiche, cioè l'approvazione del bilancio, e destinare le pochissime risorse disponibili per il comparto viabilità, non solo all'Elba, ma in tutta la provincia di Livorno. In particolar modo l'Elba soffre di più perché, come ben si saprà, molta viabilità è di competenza provinciale ed è un problema che va affrontato ora e non più avanti. Ricordiamo che il Sindaco Lombardi è anche consigliere provinciale, quindi ha abbastanza condizioni di causa del problema di cui stiamo parlando. Che cosa si potrà fare materialmente? Che interventi pensate di fare, Sindaco? Si potrà veramente eliminare quel problema che abbiamo visto e poi sul fondo delle strade cosa si può fare? Allora, per il problema, penso riguardo le frane lungo la provinciale che porta alla Cona, sì, si potranno proprio rimuovere fisicamente quelli che sono i detriti. La cosa che però ci preoccupa come sindaci del territorio è la manutenzione di quelli che sono i bordi strade, soprattutto la crescita che ora si farà vedere, sempre più rigogliosa, del verde, di quelli che sono impedimenti alla visuale, problemi per la sicurezza stradale. Noi abbiamo già chiesto a un tavolo dove era presente sia il Presidente Franchi che tutti i sindaci dell'Elba che siano attivate tutte quelle opzioni necessarie, ivi compreso anche l'affidamento a ditte terze, a ditte esterne per quella che è la manutenzione. Insomma, è il nostro biglietto da visita, una viabilità sicura, decente, pulita, ordinata. È il primo biglietto di ingresso per i paesi dell'Isola d'Elba, per i comuni dell'Isola d'Elba. Noi su questo lotteremo fino a un fondo, sapendo che siamo dentro un quadro normativo e di riordino delle funzioni delle province che è allarmante. Ad oggi noi non sappiamo ancora quali sono le risorse destinate alle province sul comparto viabilità e sicurezza stradale, così come non lo sappiamo sul comparto ancora più grave e interessante che quello dell'edilizia scolastica. Purtroppo noi attendiamo dal governo, risposte al governo centrale, risposte che ancora tardano ad arrivare. Insomma, come sindaci dell'Elba penso avremo il diritto di farci sentire. Grazie per la risposta, sindaco, ma a questo punto concludo con un'altra battuta. Lasciamo stare le scuole, ma non perché non ci interessano, perché sono un problema forse anche più grande. Restando alle strade, visto che in ballo ci sono problemi grossi come quello della parata fra Rio e Cavo, che purtroppo sono anche peggiori a livello di condizioni di quanto riguarda il monumento, qualcuno ha buttato lì un sassolino, un'ipotesi. E se grazie alla continuità territoriale si potesse provare a investire la regione della competenza stradale, che cosa ne pensa lei? Sicuramente la regione ha già dimostrato una sensibilità su quella che è la programmazione annuale per la difesa del suolo. Ci sono alcune risorse, mi pare di avere letto 180.000 euro, destinate alla risoluzione o quantomeno la possibilità di risolvere il problema sulla viabilità del versante orientale. È da capire quali sono le disponibilità regionali, ma penso che sia una proposta logica e da portare avanti, anche perché di fatto di chi è la competenza ritorno al punto originario. Sono i nostri cittadini che abitano nei comuni dell'Elba, nella provincia di Livorno, nella regione toscana, che chiedono una soluzione al problema. Di fatto basta capirci fin dall'inizio, se la competenza è di un ente, quell'ente deve avere le risorse per portare avanti il progetto, altrimenti io sono per togliere anche questa competenza e darla ai soggetti che la possono fare, con risorse e persone capaci di farlo, che ci sono. Il messaggio che giriamo ai prossimi consiglieri regionali, visto che siamo vicini anche a quell'avvicendamento normativo. E' questo il periodo migliore, a parte le battute, ma certamente c'è una sensibilità su Firenze, sui consiglieri regionali, di tutti gli schieramenti che su questo tema penso si sia dimostrata palese. Noi ci faremo portatori di questa proposta, io come sindaco sono il primo a esserne interessato, quindi sarà questa sicuramente una delle tante proposte. Non si può certamente avere come alternativa nulla. Ecco, questo io, al di là di chi ha la competenza, non lo accetto e non mi fermerò di fronte a un non ho risorse. Si farà quello che si potrà fare, ma lo faremo anche da soli. Grazie sindaco, aspettiamo il nostro prossimo appuntamento che sarà per documentare questi lavori, quantomeno ultimati. Certamente, grazie a voi per l'accoglienza e la partecipazione.